Buongiorno, che bella giornata oggi eh, bellissima, poi lo brindiamo, alla salute, alla salute nostra, alla nostra amicizia Ehi, viste che noi siamo in intimità, le nostre femmine stanno di là, ma a voi, le vostre mogli Come lo chiamano, in intimità, in intimità come lo chiamano A te come lo chiamano per esempio A me lo chiamo Winchester A Winchester E perchè? Perchè spara ripetizione Che pelle che... Che capislamo Winchester E altri, altri, altri A me lo chiamano... oh, 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 come dire Robosc, incredibile, diventoui ProBoscite E perchè? Perchè non finisce mai a me lo chiama cometa perché mio amore lo vede ogni dieci anni grazie